Filippo, che sarebbe stata una partita difficile, alla vigilia si sapeva, ma stasera il Verona ha dato tutto sul campo, non vi siete risparmiati. Alla fine l'Atalanta è passata qui al Bente Godi solamente di misura. Sì, è stata una partita come ci aspettavamo, di tanti duelli. Dobbiamo lavorare per vincermi di più, più seconde palle, più qualità, dobbiamo migliorare sotto tutti gli aspetti. Non potevamo chiedere partita migliore che quella contro il Torino, che sarà praticamente 90 minuti di duelli, quindi chi viene e vincere di più porterà a casa la partita. Parlavi di duelli, tu stasera in particolare sei il giocatore che ne ha vinti di più, 13, e hai giocato prima a sinistra, poi mister Boroni ti ha spostato a destra, hai dato in particolare molto fastidio a Olme nel primo tempo. Sei un giocatore che ha creato tanto stasera, accorso tanto, iniziativa, una buona partita comunque da parte tua. Sì, ma non penso che facciamo molta differenza, perché finché non portiamo a cosa i punti mi interessa poco le prestazioni individuali. Provo sempre ad aiutare la squadra come riesco, ma ha poca importanza. Stasera vi è mancato solamente il gol, alla fine avete creato scompiglio nell'Arena Razzurra, anche con Anri, che finalmente stasera tornava con voi. Sono queste le situazioni su cui dovete lavorare per ripartire, appunto, come dicevi, dalla prossima partita contro il Torino? Sì, dobbiamo sicuramente lavorare su questo. Sono molto contento che sia tornato Thomas a darci una mano. Penso che in settimana possiamo preparare bene la partita e rifarci alla grande. Grazie.